Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video questo video è lo speciale 170 iscritti e vi farò vedere il Capitalia dei miei sogni allora io ho già una lista preparata però che non vi dico come ce l'ho fatto vedere un po' così va bene se volete andare sul configuratore Capitalia dovete andare su Chrome scusate ok dovete cliccare qui e cercare ecco a me l'ho già trovato perché l'ho usato diverse volte ok cliccate qui e adesso dovete andare sulla versione in italiano perché sennò allora noi voi vi troverete un Capitalia tutto nero allora nel mio caso andiamo alla calotta allora allora io ho scelto la calotta polish caramello eccola qua perché secondo me è un sacco carina cioè sì basti ragazzi top cioè top ok quindi questa sarà la calotta ok scusate per l'interruzione comunque stavo dicendo che ho fatto la carotta caramello adesso andiamo al fronte questo qua io ho scelto il polish e l'ho fatto rosa quindi questo qua vedete che è molto carino secondo me sto scegliendo molto i colori chiari io generalmente sono un tipo da colore scuro però in questo caso ho scelto i colori chiari poi andiamo torniamo indietro andiamo al retro allora il retro l'ho fatto polish sempre e l'ho fatto rosa vedete molto molto carino ok adesso andiamo alla scusate il messaggio andiamo alla visiera allora la visiera l'ho fatta sempre polo no l'ho fatta polish normale non ho fatto la polo polish perché dopo c'è la visiera troppo grande per cui e l'ho fatta caramel sì lo so sono un tipo dei colori chiari sono molto attisa ok andiamo al cinturino in ecopelle allora ok un'altra volta un'interruzione perché c'era era in un attimo quindi ok facciamo perdere comunque stavo dicendo che la il cinturino l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto marrone perché il caramello secondo me non c'era neanche perché gli altri ah c'è anche bordeaux fermi tutti no bordeaux lo devo provare aspettate un attimo allora bordeaux prima non l'avevo proprio visto quindi quando sono sciocca allora o marrone o bordeaux forse però ci sta meglio bordeaux mi sembra un po' più carino dai non mi sembra tanto male il bordeaux è tipo questo se magari metto a fuoco quindi io ho scelto questo il bordeaux questo qua moda la macchinetta non si vede però l'ho fatto bordeaux quindi adesso tornerò quando avrò deciso di se farlo bordeaux oppure marrone ok ragazzi alla fine ho deciso di farlo bordeaux il cinturino ok poi facciamo la cornice in questo caso l'ho fatta specchio e l'ho fatta oro tipo questa eccola qua questa qui è che vedete l'ho fatta in oro adesso passiamo alla griglia la griglia l'ho fatta specchio sempre però non l'ho fatta cromo non l'ho fatta oro l'ho fatta oro rosa perché se non mi fa stile ragazzi top 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 cioè guardate soprattutto mi piace da questo lato come prende la luce cioè guardate quanto è carino io adoro oro rosa ragazzi si può battire ok adesso passiamo al logo al bottone la griglia ecco tra virgolette in questo caso io decido di fare il bottone marrone eccolo qui sì secondo me è monta costita ragazzi è bellissimo sto club in realtà lo volevo fare nero con il fronte bordeaux io avrei due che ha pita io questo e un altro che dopo forse vi faccio vedere se faccio in tempo perché devo anche studiare dopo che felicità la mia felicità è le stelle ragazzi wow poi c'è la griglia quindi l'abbiamo fatta il logo il logo l'ho fatto metallico e l'ho fatto metallo nero il logo dove sta ecco l'ho fatto nero che secondo me è fastidio perché guardate rosa non ci sta bene beh è troppo chiaro quindi l'ho fatto nero che mi sembrava l'alternativa giusta qua poi andiamo dopo il logo capitale che mi sembra che l'avevo fatto vabbè è uguale l'ho lasciato uguale poi l'imbottitura l'ho lasciata nera però non so sono decisa tra l'imbottitura beige e l'imbottitura nera sono un po' indecisa tra virgolette quindi penso però che la faccio fatemi un attimo pensare fatemi pensare pensa però ragazzi secondo me ci starà un pochino meglio il beige vediamo come esce fuori e il beige non sarebbe male però vabbè vabbè lascio la classica nera quindi diciamo che questo è il capitale dei miei sogni io però di capitale non ne ho uno solo come generalmente succede nella maggior parte dei casi ma ne ho bensì due ma ve lo dico a parole perché non si può fare con il configuratore perché allora la calotta è nera ok è in tutta nera diciamo con è la calotta è nera il fronte lo voglio fare e il bordo ma il fronte e il bordo mi sembra che non c'è no infatti non c'è infatti no vabbè se ci fosse stato il bordo nel fronte e tutto il resto vi avrei fatto vedere anche un altro però in questo caso questo è il capitale dei miei sogni è molto carino secondo me è bellissimo poi ditemi voi nei commenti se secondo voi è troppo chiaro o devo modificare qualcosa ma per me ragazzi è bellissimo così soprattutto mi piace la griglia che mi fa impazzire per quanto può essere carina lo so che è un po' chiaro però secondo me fa stile poi vabbè qui una volta che avete creato il vostro capitale dei vostri sogni potete decidere se pare il preventivo o la configurazione allora io non lo so mia madre ha detto che può andare anche bene se faccio la configurazione cioè la posso fare però penso che ti devi ecco appunto ti devi registrare però lo farò un po' più in là penso quindi rifaccio il stesso capitale richiedo forse la configurazione e bla 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 e va bene diciamo che ragazzi in linee generali questo è il capitale dei miei sogni e niente lo so che il video è durato circa 8 minuti è qualcosa però vabbè quindi questo era il capitale dei miei sogni spero che vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per non perdere i prossimi video scrivetemi un po' passate nei commenti se come vi sembra il capitale dei miei sogni se è troppo chiaro o posso modificare anche qualcosina ma secondo me va bene così messaggio scusate e niente noi ci vediamo in un prossimo video ciao dalla capitale ciao